Sono il 49,3% i no al ritorno in classe dopo Pasqua per nessun grado di scuola, contro il 50,7% dei sì, tra i quali il 33% vuole in classe tutti i gradi di scuola, il 17% è favorevole solo per infanzia e primaria. Più della metà sono genitori, considerando anche i genitori docenti, complessivamente i docenti rappresentano il 41% dei rispondenti, inclusi i docenti che sono anche genitori, una quota distribuita equamente tra tutto lo stivale. La maggioranza dei lettori della tecnica della scuola è ancora in attesa della prima dose, il 10% invece non ha intenzione di vaccinarsi, contro un 30% di utenti che hanno già prestato il braccio al vaccino. A rispondere in gran parte utenti coinvolti dai genitori, da insegnanti o da studenti nella scuola del primo ciclo. Grazie.